Welcome to Radio Trauma Sette faglia sta lontano Quante belle Radio Trauma Iniziata Ci siamo ragazzi Je suis le Trauma Oggi giochiamo con la maglietta bianca Loro sono neri Che steggiano per ora il centenario E fra poco che chiovo Anzi Loro fischiato le prime gocce Ma quest'anno sarà più difficile per me capire I giocatori Perché le magliette non sono personalizzate Oggi stiamo nel campo dei Mars Famoso anche per la coltivazione delle patate Famosa patata cacchina dell'anno scorso Siamo lasciati quasi qua Era la penultima trasferta Mezzutello Busetti Credo Candelori Si allarga Tiro E almeno è il primo della partita Allora la cosa che non mi piace tanto Perché all'inizio della nogra Siamo subito costretti a fare dei Banci abbastanza lunghi Anche solo per superare Il centrocampo La prima azione davvero pericolosa è dell'avezzano Molto imprecisi i nostri Noi non sappiamo se è perché il campo è di patane cacchite O perché è reso riscito dalla pioggiarella O siamo noi che stiamo ancora così Bontà A cercare Musetti Musetti Ah l'impressione del gol Ma chiama la rete esterna E ci fa girare i coglioni del gol Sbagliato e basta Al tiro del roscio Che vedete inquadrato adesso Abbiamo risposto con Musetti E' il fine del primo tempo Non c'è tanto da dire da questo primo tempo Due tiri Uno per parte Uno l'ha tirato fuori loro sette Per poco Uno l'ha tirato fuori Musetti Ora appena iniziato il secondo tempo Hanno buttato per terra Musetti E questa è la relativa punizione Parte Pizzutelli Qua c'è il parato del portiere Nel tempo si è aperto Con una netta pressione Da parte del campo Passo Che sta schiacciando Ovviamente La Pezzano Pizzutelli Spelli a Musetti Setti a Bontà Bontà a Parzani Parzani a Alessandro Alessandro si deve girare Salta il primo Ottima palla Ridata da Parzani Vai 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 Parzani Spingendo il ruolo E chiunisce il secondo tempo Natalia Pontà Ma che bontà Ma che bontà Cavallo pazzo ha di fronte a sé Tutta la prateria di Avezzano Prateria Treba a Campopatane Alessandro Pezzutelli Zammarchi Siamo in aria Alla deviata in angolo E il campo a scena Che andrà Rallamo Tirata molto bene Molta più pressione Del campo a passo Nel secondo tempo Pudini Avescio a scaldare Tutta la panchina Attenzione La posizione pericolosa Per l'Avezzano Deviata Calcio d'angolo Alessandro Ottimo questo pallone Al centro No Renzi che si è mangiato Chi la mette dentro Chi la mette dentro E le occasioni per metterla dentro Le abbiamo avute Bontà Ottimo controllo di bontà Alessandro Alessandro contro tre Deve scaricare per forza E qua su Falzano Bontà Musetti Sono gotti ceci Secondo me adesso Dobbiamo solamente Metterla dentro C'è la giusta pressione Sono aprendo Gli spazi Per il nostro gol Bontà Pizzutelli Ottimo per Barzano Che resta a scendere Bontà Bontà Alessandro Bel pallone per bontà Bontà Alessandro Ce n'ha quattro addirittura addosso Riesce a crozzare Branci Nooo E vai E l'avevo detto Che tempi arrova duri Mi stava vicino al gol Branci Esce Branci Entra Tengoran 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 campagna di abbonamenti ahia, meno male boom e te Natale Natale entra Ian Bell esce Alessandro bontà Barzani Ian Bell Gianveco bellissimo pallone per Barzani che fa in aria mannaggia in setti si entrava questa il paese della regione mette tutta bene sia di un pallone oggi sei tutta amice le campure sta cominciando a sentire adoro Dio vado pure tu forza Lupi forza Lupi rosso blu e ora è Lupi vittu quant'è? se ne mi stacchia avrà da voto arbitro fischia è partito Gianveco Ian Bell primo dripping secondo dripping cross per Tango Run per poco Musetti Musetti è lì col pallone Pizzutelli ma finisce abbiamo vinto la prima Lupi 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 lo lupi 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 Lأ Lupi 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 Grazie.